Innamorarsi non è una formalità, è qualcosa che accade e non ci puoi fare niente. Innamorarsi dell'idea di felicità, innamorarsi dell'idea di pace, innamorarsi della possibilità di essere felici. Innamorarsi della possibilità di essere chiari, innamorarsi della possibilità di essere liberi, innamorarsi della possibilità di conoscere amore. L'amore Se non c'è l'amore, ma ci sono tutti i rituali, tutti i rituali di questo mondo non possono farvi innamorare. Potete tatuare vostra moglie con ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Potete ricamare gli asciugamani ti amo, ti amo, ti amo. O la tappezzeria, ti amo, ti amo, ti amo. Oppure, sapete, i cereali da colazione con le lettere dell'alfabeto. Prendete, ti amo, ti amo, ti amo. Ma tutti quei ti amo non vi faranno innamorare di quella persona. Proprio no. Non è possibile. Perché l'innamoramento nasce dal cuore. La semplicità. L'innocenza di innamorarsi. L'innocenza. Non puoi uscire dicendo «Beh, oggi mi innamorerò». L'amore non nota il tempo. L'amore non è desiderio fisico. Non confondete mai l'amore con il desiderio. L'amore è l'amore. Il desiderio è desiderio. E molti, molti di voi forse vedono una foto, una cartolina, hanno un pensiero, quello potrebbe essere il desiderio. Ma l'amore è diverso. E l'amore è innocente. E proviene da un luogo innocente. E se non avete l'innocenza, non avrete l'amore. Quindi, se volete essere innamorati, lavorate sull'innocenza. Non ai ricami sugli asciugamani. Perché è stata l'innocenza che vi ha portato a quell'amore. E il giorno in cui ricominci a credere nel tuo cuore, il mondo complicato sparirà come per magia. Le complicazioni del mondo che vi dà la caccia possono esserci solo per un motivo, l'ignoranza. Credete nel cuore. E il messaggio che vi ha dato il cuore di essere soddisfatti non fu questa la causa iniziale della vostra ricerca? ognuna delle nostre storie è così diversa eppure così simile. Il vostro nome è diverso. Il vostro viso è diverso. Dove siete nati è diverso. come siete cresciuti è diverso. Come vedete il mondo è diverso. Ma innamorarsi e la sua innocenza sono la stessa cosa per ognuno di noi.